Assofondi Pensione nasce nel 2003 e racchiude 30 fondi pensioni negoziali e zendali. Come sapete sono nati questi fondi dal 1998 in poi, quindi negli anni sono cresciuti, da piccoli sono diventati medi, da medi grandi, e ormai il patrimonio globale di Assofondi Pensione con i propri 30 fondi negoziali è di 52 miliardi. Questi soldi vengono investiti nella grande maggioranza dei casi in prodotti a debito, quindi titoli di Stato e in azione e obbligazione di aziende quotate. L'Associazione sta pensando, visto anche il tema dei rendimenti, perché nell'ultimo anno purtroppo la media è del meno 2,1%, quindi c'è stato un calo sui rendimenti, è quella di portare avanti un programma serie di investimenti come sistema nel mondo dei prodotti liquidi, quindi nelle asset class, private equity, private debt, infrastrutture e real estate. In questo contesto ci si è mossi su tre progetti di sistema, ci si sta muovendo su tre progetti di sistema, uno riguarda 5 fondi pensioni negoziali nel settore chimico, cappeggiati dal Fondo Energia, che è il Fondo dell'Eni, che è già in fase abbastanza avanzata, e stanno già facendo investimenti nel private equity e poi lo faranno nelle infrastrutture. Il secondo, quello dell'Associazione, è in etinere, abbiamo l'ok di 8 fondi pensioni negoziali che si sono messi insieme per sfruttare economia di scala, stanno pensando quindi come andare a investire le proprie risorse, si può farlo fino al 20% del patrimonio globale grazie a una delibera della COIP del 9 marzo 2018, nel mese di marzo ci sarà un primo incontro per delineare il perimetro per la scelta dell'advisor, e poi decideranno gli 8 fondi quanto investire e dove investire, sempre in prodotti di asset class e liquide. Il terzo progetto è partito per ultimo, è un progetto più istituzionale, ci vede collaborare con CDP, abbiamo avuto un incontro con il loro Presidente Tononi e con il Direttore Generale Palermo a metà gennaio, è stato istituito un tavolo tecnico di confronto fra il mondo dei fondi pensioni negoziali e l'Associazione Assofondi e CDP, io mi auro che nel giro di un mese si arrivi alla possibilità di costruire un prodotto dedicato dove i fondi pensioni negoziali potranno investire, con anche un coinvestimento e magari anche con una garanzia da parte di CDP.